A causa della pesante situazione debitoria il prossimo 22 dicembre la stazione scistica di Campitello Matese sarà venduta all'asta. Il treno non parte, nessun mezzo sostitutivo e sciopero dei pullman, 20 pendolari molisani bloccati tutta la notte nella capitale. Neurome dei gemelli poli d'eccellenza, certificarlo il TAR del Molise, nulli, i tetti di spesa per gli extraregionali e le cure salvavita. Dopo la denuncia di una donna che sostiene di essere stata morsa da un topo in ascensore, la replica dello IACP verificheremo con la videosorveglianza. San Vincenzo al Volturno, Pietra Abbondante, Riccia e Venafro, le tappe del tour di gruppo di visitatori laziali che scoperta il Molise. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TVI Molise. In apertura del Tg di oggi una notizia che è arrivata da poco in redazione. C'è stato un incidente questa mattina sul lavoro a Sant'Elia Pianisi dove è rimasto gravemente ferito un operaio di 51 anni dipendente della ditta incaricata della raccolta differenziata. L'incidente si è verificato intorno alle 7.30 di questa mattina durante la normale attività di raccolta dei rifiuti. L'operaio sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo che si sarebbe messo in movimento proprio mentre il 51enne stava raccogliendo la spazzatura. Secondo un testimone oculare come riporta il quotidiano del Molise. L'uomo avrebbe tentato di modificare la traiettoria del mezzo per evitare conseguenze ancora più gravi. Intervenuti i carabinieri della locale stazione e il 118 che ha trasportato l'uomo ferito al Cardarelli di Campobasso. Sicuramente nelle prossime edizioni del telegiornale vi daremo conto di aggiornamenti su questo fatto. Ora andiamo avanti. Parliamo della stazione sciistica di Campitello Matese perché il prossimo 22 dicembre nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso sarà venduta all'asta l'intera stazione compresi gli impianti sciistici. La vendita sarà effettuata in 5 di 7 lotti per un totale di richiesto. Base d'asta 2 milioni e 642 mila euro. Ma ci parla di tutti i dettagli di questa operazione Enzo Di Gaetano. Clamoroso dal Tribunale di Campobasso il prossimo 22 dicembre nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sarà venduta all'asta l'intera stazione sciistica di Campitello Matese, impianti di risalita compresi. La vendita senza incanto sarà effettuata in 5 di 7 lotti per un totale richiesto con base d'asta di 2 milioni e 642 mila euro. La causa della vendita all'asta sarebbe, stando alle prime informazioni, l'istanza del Comune di San Massimo che vanterebbe crediti nei confronti di funivie molise per centiraia di migliaia di euro a titolo di mancato pagamento dell'imposta sulle superfici sciabili. Dopo diverse richieste è partita la procedura legale di vendita senza incanto. La professionista delegata e la commercialista Lucia Morgillo di Boiano è lei che ha pubblicato l'avviso di vendita senza incanto fissando una base d'asta per i 5 lotti 1, 2, 5, 6 e 7 in cui è stata divisa la stazione sciistica di Campitello Matese, ma vediamo i lotti. Lotto numero 1, fabbricato adibito ad hotel albergo, offerta minima a 468 mila euro. Lotto numero 2, impianto di risalita, offerta minima a 750 mila euro. Lotto numero 5, immobile, impianto di risalita, offerta minima a 975 mila euro. Lotto 6, impianto di risalita, offerta minima a 225 mila euro. Lotto 7, ultimo impianto di risalita, offerta minima a 337 mila euro. Appuntamento in tribunale a Campobasso per il 22 dicembre. Si vende una stazione sciistica. Solo il 2 di maggio di quest'anno l'ex giunta Thomas stanziava 900 mila euro per la società Funivie Molise. Neuromed ed ex gemelli, oggi Responsible Research Hospital, sono poli di eccellenza con utenza interregionale che garantiscono cure che nessun ospedale pubblico eroga in Molise. Ruolo che impone alla regione, con cui proprio per questo sono contrattualizzate direttamente, di coinvolgere queste strutture preventivamente quando prende decisioni che avranno effetti su due centri. Lo ha ribadito il Tar Molise, annullando il decreto 108 che fissava i tetti di spesa per il 2021 firmato dall'allora commissario Donato Toma il 9 novembre 2021 e che poneva limiti alle prestazioni per i pazienti extra regionali e per le prestazioni salva vita. Ed ora il nostro Antonio Leone vi parla dell'ennesima epopea vissuta da pendolari molisani. Circa 20 persone sono rimaste bloccate per tutta la notte a Roma perché non sono riusciti a prendere la linea ferroviaria che collega appunto la capitale al Molise. Il treno dunque non è partito, non sono stati attivati i servizi sostitutivi. Vediamo dunque che cosa è successo in questo servizio. Dovevano arrivare a Venafro alle 22.20 di ieri sera. Alcuni di loro sono giunti nella stazione che è qui alle mie spalle solo questa mattina ma la maggior parte invece non sono proprio arrivati. Dopo i ritardi e le deviazioni fino alla costa tirrenica, ennesima odissea per circa 20 pendolari molisani che ieri sera avrebbero dovuto viaggiare con il treno regionale Roma Termini-Venafro delle 20.35. Il condizionale è d'obbligo perché quel treno non è mai partito. Dopo essere rimasti a bordo dei vagoni fermi sul binario per 20 minuti, i passeggeri sono stati invitati a scendere per motivi non precisati. L'indicazione data era quella di dirigersi verso l'uscita della stazione per prendere il classico bus sostitutivo. Tuttavia, giunti fuori poco dopo le 21, ecco l'amara sorpresa. Nessun mezzo sostitutivo era disponibile, impossibile anche raggiungere il Molise con qualsiasi altro pullman a causa dello sciopero generale, iniziato proprio qualche minuto prima. Qualche pendolare in realtà è riuscito a prendere al volo un taxi, raggiungere la stazione Tiburtina e da lì salire su un flixbus arrivato all'alba e il caso di un giovane che è partito a ora di pranzo da Genova ha fatto capolinea a Termoli solo alle 3.45 di notte. Altri, soprattutto lavoratori che stamane avrebbero dovuto far ritorno nella capitale, hanno preferito pernottare in una stanza d'albergo e più coraggiosi invece hanno atteso il treno in partenza alle 23.58. Questa opzione però ha comportato due cambi di treno, uno a Caserta e l'altro a Vairano, prolungando notevolmente il tempo di viaggio. I pendolari, che inizialmente prevedevano di raggiungere Venafro intorno alle 22.20, sono arrivati a destinazione solo alle 6.21 di questa mattina, con ben otto ore di ritardo. Una volta arrivati in Molise, è stata impresa ardua a raggiungere le altre destinazioni della regione. Ad aggravare ulteriormente la situazione, il costo aggiuntivo del biglietto, una spesa extra di circa 20 euro. Un'altra brutta pagina, dunque, per quanto riguarda i trasporti su ferro, quello di ieri sera, insieme agli episodi precedenti, hanno alimentato una crescente insoddisfazione tra i pendolari, che ora chiedono a gran voce miglioramenti nella gestione del servizio ferroviario e una comunicazione più efficace in caso di problemi o cambiamenti improvvisi. Hanno svaliggiato un'abitazione in soli sette minuti, mettendo a suo quadro la casa e portando via tutto l'oro. I carabinieri della compagnia di Isernia indagano sul furto avvenuto nella giornata di ieri in località Breccelle. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e dopo aver trafugato gioielli ed oggetti preziosi, si sono allontanati a bordo di una BMW. Sono in corso ora le ricerche in tutta la provincia Pentra. Torniamo a parlare della vicenda di qualche giorno fa, che ha visto una signora attaccata da un ratto all'interno di un ascensore di uno stabile di proprietà dell'OIACP. Oggi c'è stata una conferenza stampa a Campobasso del commissario liquidatore, l'avvocato Travaglieni, che è intervenuto per tutelare l'onorabilità dell'ente e per sollevare dei dubbi sull'accaduto di cui ci parla Francesco Adano. La notizia di qualche giorno fa ha fatto scalpore. Ratto attaccadonna in ascensore. La signora dichiara il mio avorso al viso e all'orecchio. La notizia è troppo ghiotta per non essere ripresa da altre agenzie di stampa. La signora ricorre agli avvocati e l'Istituto Autonomo Case Popolari va sotto attacco. Oggi la conferenza stampa. Questa è la posizione del commissario liquidatore dell'OIACP, avvocato Nicola Travaglieni. È ovvio che di fronte a una situazione del genere io mi trovo obbligato a inviare tutta questa documentazione agli enti preposti. Non peraltro, perché mi sembra più che giusto e corretto, difendere l'onorabilità di questo ente dell'OIACP, l'onorabilità di tutte le persone che lavorano all'interno dell'OIACP, vi dico che sono pochi i dipendenti. Abbiamo qualche migliaia di appartamento, quindi lo sforzo è immane e il loro lavoro è incomiabile, pertanto non credo sia giusto sottacere ad una vicenda del genere. Ovviamente noi chiederemo che vengano fatte tutte le indagini del caso, poi chi ha delle responsabilità dovrà comunque risponderne. Quindi il commissario si sente in dovere di tutelare l'onorabilità dell'ente. Intanto c'è una richiesta di risarcimento danni da parte della presunta danneggiata. Non siamo preoccupati della richiesta risarcitoria perché come ha poc'anzi spiegato il collega e il commissario liquidatore dell'OIACP, avvocato Travaglini, sia la richiesta risarcitoria che i fatti così come sono stati descritti sono privi di fondamento. La cosa che dispiace di più e rammarica è che non si tiene conto di quella che è la funzione sociale dell'OIACP, di rispondere a dei bisogni per fasce di popolazioni che hanno già delle difficoltà economiche e diffondere e propalare notizie, anche addirittura a livello nazionale, che non sono di alcuna utilità, oltre perché non vere, ma rispetto a quella che è la funzione dell'OIACP, dispiace particolarmente. È chiaro che in una situazione di questo tipo c'è la necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria a cui chiederemo l'accertamento per individuare eventuali responsabilità per il danno di immagine e di onorabilità che l'OIACP ha subito a seguito della diffusione e divulgazione di queste notizie. Lunedì 23 ottobre, a partire dalle ore 10, riaprirà ufficiale la Camera Iperbarica di Larino, servizio importante e fortemente richiesto da un bacino di utenti sempre più ampio, non solo, della nostra regione, ma anche delle regioni limitrofe. Alla riapertura saranno presenti il governatore Roberti e il direttore generale dell'ASREM di Santo. Andiamo a Disernia, cavo elettrico scoperto all'ingresso della scuola primaria di San Leucio, cavo che è stato riparato con dei sacchetti di terriccio e proprio su questo il consigliere comunale di minoranza Raimondo Fabrizio, sollecita l'amministrazione per mettere in sicurezza al più presto la zona e ce ne parla Carla Marino. Un cavo di un impianto elettrico scoperto, spuntato dal suolo davanti all'ingresso della scuola primaria San Leucio a Isernia, a segnalarne la presenza le mamme dei bambini che frequentano l'edificio e che hanno portato la questione anche all'attenzione del consigliere comunale di minoranza Raimondo Fabrizio. Dopo la segnalazione, sottolinea Fabrizio, invece di risolvere il problema definitivamente con un'opportuna e stabile copertura e isolamento del filo, dal municipio è stata trovata una sistemazione provvisoria e il cavo elettrico è stato semplicemente ricoperto con del terriccio e dei sacchetti di compost. Per questo motivo l'esponente dell'opposizione ha presentato un sollecito all'amministrazione. Sono diversi giorni che c'era un filo di ricorrente esposto innanzi all'ingresso proprio della scuola dell'infanzia. Ho sollecitato l'amministrazione, non solo io ma anche alcune mamme che hanno visto subito il problema e bene ha pensato questa amministrazione, anziché mettere il filo in sicurezza, il filo elettrico in sicurezza, ci ha messo delle sacchette contenenti del terriccio per riparare l'inconveniente. Questo è un domenio assurdo, o meglio non fa parte di un paese civile mettere in sicurezza un cavo elettrico con dei sacchetti del terriccio alquanto inusuale ed è una cosa assurda sinceramente. L'obiettivo pertanto, rimarca Fabrizio, è quello di mettere in sicurezza al più presto l'area per evitare eventuali rischi per i bambini, i genitori ed il personale scolastico. Quindi ho sollecitato l'amministrazione, speriamo che a breve, visto che c'è una settimana che siamo in queste condizioni ed è pericoloso soprattutto per i bambini, se c'è un ingresso che l'uscita proprio inizia la scuola a San Leo, speriamo che avvenga a breve. Ieri mattina l'intitolazione al capitano Massimiliano Tosti del largo di via Colle delle Api a Campobasso dove sorge il monumento dei carabinieri. Il capitano Tosti è l'eroe che, incurante delle leggi razziali introdotte dal regime fascista ed insieme ad altri militari, salvò circa 4.000 ebrei durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ringrazio quanti si sono impegnati per riportare alla luce episodi eroici. Fino ad oggi rimasti sconosciuti è il commento del vice sindaco reggente Paola Felice. San Vincenzo a Volturno, Sepino, Pietra Abbondante. Sono solo alcune delle tappe per scoprire il Molise, tappe che sta percorrendo un gruppo di turisti che il nostro Domenico Marzocchella ha incontrato a Venafro e guardate che cosa hanno detto della nostra regione. Io ho sempre un po' non considerato il Molise, quasi si può dire un po' l'ho bistrattato non l'ho mai considerata come regione da visitare, da conoscere però devo ricredermi perché ho visto delle cose irrepetibili è una bellissima regione ed è proprio da visitare e da vedere anzi anche da approfondire e mi dispiace se prima ho avuto un'opinione appunto un po' non dico negativa ma un po' superficiale. Il Molise, una scoperta, parola con tanto di scuse annesse naturalmente tra virgolette di questa visitatrice proveniente da Roma lei insieme ad un gruppetto di amici per tre giorni ha toccato alcuni dei luoghi più rappresentativi della regione dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale San Vincenzo al Volturno, Pietrabbondante, Campobasso, Castelli di Gambatese e Riccia Antica Sepino, le tappe dei primi due giorni la giornata conclusiva del veloce ma intenso tour interamente dedicata a Venafro li incontriamo ad ammirare il laghetto prospicente la Palazzina Liberty da lì al Verlace, l'antico anfiteatro romano il passo è breve, tanto da decidere di accompagnarli Stamattina adesso, poco fa, abbiamo visitato il bellissimo museo archeologico del monastero delle Benedetti, delle Clarisse di Santa Chiara abbiamo visitato la chiesa dell'Annunziata adesso siamo nel bellissimo resti dell'anfiteatro romano e nel pomeriggio saliremo a visitare il museo Pandone quindi abbiamo deciso proprio di dedicare tre giorni alla scoperta di una regione sicuramente poco conosciuta A quanto riguarda lo specifico Venafro, quali le impressioni a caldo? La prima impressione è che ci sono potenzialmente tante cose da poter visitare, da poter apprezzare però mi sembra che ci sia anche ancora un lavoro di valorizzazione di queste strutture il museo è abbastanza ben allestito le chiese abbiamo visto che spesso sono chiuse anche noi abbiamo avuto difficoltà ad entrare nelle chiese dell'Annunziata ci siamo riusciti grazie a un volontario che ci ha aperto però insomma il primo impatto con la città è che sicuramente merita una visita anche il centro storico con le stradine, le piuzze, le piccole piazze sembra veramente un paesino interessante dal punto di vista culturale Una piccola delusione c'è stata quella del teatro dove praticamente siamo andati lì per poter vedere le vestigia di Venafro e purtroppo a parte insomma era un'area di cantiere non meglio identificata questo insomma mi ha un po' deluso poi per il resto sia per quanto riguarda il centro storico per quanto riguarda la pulizia delle strade per quanto riguarda le chiese che abbiamo visitato che abbiamo potuto visitare e sono stato pienamente soddisfatto Posso dire complimenti per la città ma non solo per la città ma tutto al Molise e auguro appunto che i turisti siano sempre più numerosi Un augurio questo che potrà realizzarsi solo se il Molise sarà in grado di migliorare tra i diversi fronti nevralgici per il salto di qualità quello della ricettività non parliamo tanto di alberghi ci mancherebbe il Molise ha una vocazione da turismo slow e di nicchia più verosimilmente di bed and breakfast disseminati strategicamente sul territorio Senza questa leva quanti vengono alla scoperta del Molise e sono sempre di più rischiano di rimanere visitatori mordi e fuggi e non turisti in senso pieno quelli che maggiormente portano introiti al settore e alle attività del territorio è stata inaugurata nel pomeriggio di ieri a Termoli la quarta edizione della festa del cioccolato la quarta festa si svolge come di consueto in piazza Vittorio Veneto e ha subito attirato l'attenzione di tanti passanti che affollano le vie del centro quattro giorni da leccarsi i baffi bisogna proprio dire così grazie alle numerose varietà e ottime varietà di cioccolato ed ora parliamo di sport perché se praticato fin da piccoli aiuta a stare meglio anche in età adulta e se ne è parlato nel corso di un convegno a Campobasso ce ne parla Francesco Adamo La sala convegni sport e salute è ospitato il convegno sani e corretti stili di vita le buone abitudini organizzato dall'Arsmes innanzitutto conosciamo questa associazione accompagnare i ragazzi in gara portarli in questo percorso di costruzione dell'atleta di alto livello noi vediamo solo l'atleta ma dietro l'atleta c'è un tecnico e prima ancora un dirigente quindi colui che gestisce e coordina i tecnici e i tecnici poi che allenano e formano gli atleti Sarà banale ma lo sport è la migliore cura per star bene anche in salute Assolutamente infatti il convegno si chiama sani e corretti stili di vita le buone abitudini perché non solo lo sport inteso come risultato della medaglia quindi l'agonismo ma quando poi finisce questo perché è un periodo che non dura poi tantissimo si avvicina a quell'attività motoria che tiene il corpo lo contiene e lo tiene per il resto della vita Le buone pratiche vanno divulgate su questo si sofferma Franco Palladino membro del Consiglio Nazionale dell'Arsmes Io mi occupo appunto di comunicazione nella nostra associazione Asmes che è un'associazione che non pratica attività sportiva come le altre federazioni ma soprattutto organizza eventi e si muove sull'ambito degli aspetti sociali dello sport e utilizziamo per queste iniziative l'esperienza dei nostri soci i quali sono tutti coloro che hanno ricevuto una benemenza da parte del CONI e anche del CIP ultimamente e che si sono contraddistinti per decenni di attività sportiva a favore dei giovani, dei meno giovani, di anziani quindi anche noi abbiamo tra le tematiche da conseguire le obiettive da conseguire il benessere, lo stile di vita e questo lo rappresentiamo anche in eventi, convegni che svolgiamo dappertutto nelle scuole, presso le federazioni nelle associazioni anche per anziani Dicevamo comunicazione delle buone pratiche che poi aiutano a star bene più a lungo Sono certo che chi questa sera ha avuto la fortuna di partecipare a questo convegno è uscito con sicuramente qualche nozione in più che sarà utile per appunto attuare questi corretti stili di vita Si parlava per esempio di osteoporosi Certo, intervenire a 65 anni dopo una vita senza sport è difficile Complicatissimo Dicevo, vediamo spesso delle persone in giro correre mettendo a repentaglio la vita magari senza allenamento, senza controllo sanitario Il messaggio che vogliamo lanciare è quello che lo sport fa bene ma bisogna essere controllati bisogna sottoporsi a delle visite mediche presso centri specializzati perché purtroppo tutti noi non vorremmo mai smettere ma l'età impone a certi ritmi di dover tirare non dico il freno a mano ma andare un attimino più tranquilli Parliamo ancora di sport Vasto Girardi, il presidente di Lucente preoccupato siamo arrivati a Capolinea dice non bisogna fare altri passi falsi siamo una squadra che segna poco e subisce tanto questo non lo dico io ma parlano i risultati siamo arrivati a Capolinea si deve per forza vincere da lunedì potrebbero esserci degli inevitabili cambiamenti la società conclude di Lucente si assume tutte le responsabilità di questo avvio di stagione deludente e torna sportivamente questa sera non perdetevi la prima puntata della seconda stagione della rubrica sportiva curata dal nostro Michele Visco questa prima puntata sarà dedicata al campione di ciclismo Domenico Marzullo e al calcio di eccellenza molisano con il Castel di Sangro 1953 ospiti in studio gli atleti Gaetano Rossi Antonio Di Sandro e Emilio Incollingo per la parte dedicata al ciclismo si parlerà invece di calcio con mister Alberto Bernardi e con l'ex calciatore di serie A e B Dominic Malonga stasera quindi appuntamento alle ore 21 in diretta live sul canale 110 del Digitale Terrestre inoltre potete seguirci anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.tvimolise.it ebbene siamo in chiusura prima di salutarci come sempre diamo uno sguardo alle previsioni del tempo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino benvenuti al meteo di TV Imolise per la giornata di oggi si prevede un inizio contrassegnato da nuvolosità sparsa su tutto il territorio a cui non dovrebbero tuttavia associarsi precipitazioni diverso è il discorso in serata dove è atteso un peggioramento con fenomeni sparsi che insisteranno sui settori occidentali venti dei quadranti sud-occidentali mare mosso temperature campo basso minima 15 massima 25 esernia minima 16 massima 26 termoli minima 20 massima 26 venafro minima 17 massima 28 vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani sabato 21 ottobre per la giornata di domani è atteso un peggioramento su tutta la regione con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale sui settori posti sul versante occidentale dell'appennino venti dei quadranti sud-occidentali mare mosso temperature campo basso minima 14 massima 18 esernia minima 17 massima 19 termoli minima 20 massima 22 venafro minima 19 massima 21 ed è davvero tutto grazie per essere stati con noi e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata arrivederci arrivederci un buon